Questa è la terza parte della video lezione dedicata alla OOP, Object Oriented Programming, programmazione orientata agli oggetti. La visione di questa terza parte della video lezione è praticamente inutile se non avete già visto le prime due. Nelle precedenti lezioni ci siamo occupati di incapsulamento. In questa ci occuperemo dell'ereditarietà. L'ereditarietà realizza un vecchio sogno dei programmatori, il poter programmare per differenze. Perché descrivere da zero un mammifero quando posso fare riferimento a una classe da cui discende l'animale? E la stessa cosa per un insetto. Tutte le caratteristiche biologiche di base possono essere raggruppate qui nella classe madre degli animali e condivise dalle figlie, insetti e mammiferi. E man mano che si procede per specializzazione, otteniamo classi sempre più ricche di caratteristiche, ma in cui si aggiungono solo le caratteristiche nuove, ereditando dalle classi madri le caratteristiche comuni. Se vogliamo leggere il diagramma invece dal basso verso l'alto, considerando alcune classi, si cerca di individuare tra queste un gruppo di caratteristiche comuni che possono essere messe a fattore comune in una classe che fa da genitrice. In questo senso si procede per generalizzazione. Si dice anche che tra una classe madre e una classe figlia sussiste una relazione is-e, è-un, cioè un oggetto appartenente alla classe dei quadrati e anche un rettangolo, ad esempio. In riferimento a questo nuovo diagramma, in cui ho immaginato una gerarchia per descrivere un sistema grafico, geometrico, non solo possiamo immaginare di raggruppare, di concentrare in una classe madre le caratteristiche comuni delle classi figlie. Ad esempio, il colore di una figura, la dimensione, la sua posizione sullo schermo, lo spessore del tratto con cui deve essere disegnata, se il contorno deve essere continuo o tratteggiato, e potrei continuare ancora per molto. Dicevo, non solo tutte queste caratteristiche, rappresentate con opportune variabili nello stato interno, possono essere messe a fattore comune in una classe genitrice, ma anche il comportamento di questi oggetti, il modo cioè con cui rispondono alle sole citazioni che arrivano loro dall'esterno, può essere messo a fattore comune. Immaginiamo infatti di aver previsto per la classe dei rettangoli un metodo chiamato area. Immaginando allora di aver creato un oggetto appartenente alla classe dei rettangoli, chiamato proprio rettangolo, quando in un punto del nostro programma avremo bisogno di sapere il valore dell'area di quel rettangolo, sarà sufficiente invocare il metodo area in questo modo. Questo valore potrà essere visualizzato sullo schermo, memorizzato in una variabile del tipo opportuno, utilizzato per il calcolo in una formula più complessa, eccetera. Nella letteratura informatica troverete frequentemente, in riferimento all'invocazione di un metodo di una classe, anche il termine messaggio. Inviare un messaggio a un oggetto equivale in pratica a chiamare uno dei suoi metodi. In questo senso stiamo inviando il messaggio area al rettangolo. L'oggetto, stimolato con un messaggio dall'esterno, reagisce secondo il suo comportamento in modo opportuno, cioè restituisce al chiamante il valore dell'area. Quest'altro metodo del rettangolo avrà come risultato del comportamento programmato il tracciamento sul video del contorno del rettangolo. Bene, nel momento in cui il programmatore dichiara una nuova classe dei quadrati, dicendo che deriva, che discende, che ha come classe genitrice quella dei rettangoli, non solo in partenza, senza scrivere neppure una riga di codice, ottiene per i quadrati tutte le variabili dello stato interno dei rettangoli. Ma può richiamare per un quadrato anche tutti i metodi previsti per i rettangoli, cioè può mandare ad un quadrato gli stessi messaggi che manda un rettangolo. Potrà quindi chiedere quadrato.area. E tutto funzionerà bene, perché, tutto sommato, per calcolare l'area di un quadrato, la formula è la stessa del rettangolo. L'unica differenza, l'unica particolarità è che i lati del quadrato sono uguali, mentre per il rettangolo si parlerà di una base e di un'altezza. Ma se derivando una nuova classe da una preesistente, tutto ciò che si può fare è semplicemente accettare in eredità lo stesso stato interno, né più né meno, e lo stesso gruppo di metodi, ci ritroveremmo con un meccanismo piuttosto limitato. In realtà il programmatore può arricchire lo stato interno, quindi ad esempio aggiungere delle variabili nuove per il quadrato che non ci sono nel rettangolo. Ovviamente manterrà le vecchie variabili ereditate dal rettangolo e aggiungerà quelle nuove. Oppure potrebbe scrivere, aggiungere anche dei metodi, delle procedure e funzioni che non c'erano nel rettangolo, ma che hanno un senso e che servono nel quadrato. Oppure, ed è uno degli aspetti più interessanti, può decidere che un metodo della classe genitrice, così come scritto, non è adatto per sé, e lo può riscrivere, ma, sottolineo ma, mantenendo lo stesso nome. Ad esempio, potrebbe decidere per il quadrato di modificare un altro metodo, il perimetro, perché c'è un modo migliore di calcolarlo per il quadrato. Infatti, per un quadrato, come spero sia ovvio, per calcolare il perimetro è sufficiente moltiplicare per 4 il valore del lato. E 4 è una potenza di 2, 2 alla seconda. E, come alcuni di voi forse ricorderanno, il computer è molto efficiente quando deve moltiplicare per delle potenze del 2. Questo perché deve semplicemente shiftare, spostare, di una posizione verso sinistra, la configurazione dei bit che rappresentano il numero 4, 1, 0, 0, sposto verso sinistra di una posizione, e naturalmente metto 1, 0 nella parte finale, ottengo il numero 8. Quindi, mentre per calcolare il perimetro, nel metodo corrispondente scriverò base più altezza per 2, potrei pensare di riscrivere il metodo perimetro per il quadrato, usando la formula lato per 4, più efficiente della precedente. Allora, non abbiamo aggiunto nessun nuovo metodo. Abbiamo semplicemente adattato, anzi riscritto, un metodo che però, ecco la cosa veramente interessante, mantiene lo stesso nome del precedente, perimetro. Stesso nome, come dire, stessa forma, stesso formato, ma risultati diversi. Questo si chiama polimorfismo. Il polimorfismo consente di chiamare con lo stesso nome metodi che daranno però un risultato diverso, dipendente dalla classe a cui stiamo facendo riferimento. E questa è una grossa comodità. Una volta che ho imparato che esiste un metodo chiamato perimetro per un poligono, non dovrò ricordare nient'altro. Mi aspetterò di poter chiamare perimetro anche per un triangolo, per un rettangolo e un quadrato e così via. Non dovrò cioè ricordare soprattutto differenziarne il codice scrivendo dei nomi diversi per dei metodi di classi che hanno molto in comune come i poligoni che ho qua rappresentato. Userò sempre oggetto punto perimetro. Non oggetto punto perimetro quadrato, oggetto punto perimetro rettangolo, oggetto punto perimetro esagono. Il codice risulterebbe molto più confuso, molto più difficile da leggere e da ricordare. Più avanti vedremo che il polimorfismo, unito a un altro meccanismo chiamato del binding dinamico, consentirà di trattare in modo uniforme delle collezioni di oggetti. Potrei ad esempio memorizzare in un vettore di figure una serie di oggetti tra loro diversi, anche se assimilati dall'appartenenza a classi tra loro derivate. Quindi potrei avere nel primo elemento il vettore un quadrato, nel secondo un triangolo, nel terzo un esagono e così via. E siccome tutte queste figure potrebbero condividere uno stesso metodo, ad esempio quello per il calcolo dell'area, potrei comandare con un semplice ciclo for una cosa del tipo a somma assegna somma più oggetto di i punto area. E quasi magicamente il compilatore saprebbe per ogni oggetto quale giusto metodo area chiamare. Se il primo oggetto è un quadrato chiamerà l'area dei quadrati, se il secondo oggetto è un esagono chiamerà il metodo area degli esagoni e così via. Questa possibilità è a dir poco impensabile per un linguaggio tradizionale. Dove saremmo costretti a investigare con un if la natura di ogni elemento del vettore. Dire se nel primo elemento del vettore c'è un quadrato, allora chiamo la procedura a funzione per calcolare l'area dei quadrati. Else se nel primo elemento è contenuto un esagono, allora chiamerò la funzione degli esagoni e così via. Non solo, se in un secondo momento il programmatore dovesse decidere di aggiungere nuove figure geometriche, pentagoli, trapezzi, rombi, eccetera, questa riga non dovrà essere modificata. È il compilatore che da solo capisce la natura dell'oggetto memorizzato nel vettore e potrà chiamare il giusto metodo area. Tutto quello che si dovrà fare sarà aggiungere nel progetto naturalmente la unit che contiene la descrizione di queste nuove classi, dei trapezzi, dei quadrati, rettangoli, e sarà poi sufficiente solo ricompilare e linkare il progetto. Ma il vecchio codice, ed è questa l'enorme novità, non dovrà essere modificato. Con i linguaggi tradizionali invece, l'aggiunta di una nuova figura, anche di una sola nuova figura, avrebbe costretto il programmatore a ritrovare nel vecchio codice tutti i punti in cui, con gli if visti prima, si era costretto a distinguere se è un quadrato fai così, se è un rettangolo fai così, se è un trapezio, nuova figura, devi invece fare così. Direi che c'è una bella differenza. Ma finora le mie sono solo chiacchiere. Vediamo come implementare la classe dei quadrati partendo dalla classe dei rettangoli. Create allora una nuova unit, file new unit, e salvatela con il nome uquadrati, io l'avevo già fatto prima. Prima di tutto è necessario rendere visibile il contenuto dell'interface della u rettangoli in questa di unit. Quindi uses u rettangoli. Mi serve perché dobbiamo accedere ovviamente alla dichiarazione della classe dei rettangoli, e derivare da quest'ultima i quadrati. Iniziate la sezione type e cominciate a dichiarare la classe dei quadrati. T quadrati uguale classe e tra parentesi mettiamo la classe dei rettangoli T rettangoli rettangoli Chiudo subito con end la dichiarazione della classe Anche se apparentemente vuota, la classe dei quadrati ha a disposizione tutto quello che ha ereditato dalla classe dei T rettangoli Però alcune parti, pur ereditate, non saranno direttamente accessibili Ovviamente mi sto riferendo alle parti private Intendiamoci Anche un oggetto appartenente a T quadrati ha la base, l'altezza, X, Y e dove ma non potrà accedervi direttamente Lo potrà fare chiamando un metodo pubblico che poi va a lavorare a sua volta con una variabile private oppure attraverso una nuova categoria di oggetti metodi compresi di un livello intermedio come protezione tra private e public chiamati protected ma ne parleremo tra poco Ma una domanda lecita potrebbe essere ma è già possibile creare un quadrato? E che costruttore utilizzeremmo per la creazione? La regola importantissima da ricordare è questa Quando viene invocato di una certa classe un metodo ad esempio il metodo create per i T quadrati dapprima il metodo viene cercato tra quelli della classe stessa e se non viene trovato come nel caso dei T quadrati perché questa classe non ha un suo costruttore specifico allora il metodo viene cercato se la classe discende da un'altra nella classe genitrice quindi non trovo create nei quadrati provo a cercarlo nei rettangoli non trovo create nei rettangoli provo a cercarlo nei poligoni e così via fino a risalire alla classe capostipite se alla fine di questa ricerca il metodo non viene trovato il compilatore genera un messaggio di errore proviamo allora a creare un quadrato vado nella unit che a questo punto avrà un nome non proprio azzeccato in quanto proverò in essa anche i quadrati per poter dichiarare una variabile di tipo T quadrati devo aggiungere la unit e poi una variabile globale di tipo la chiamo quadrato e sarà di tipo T quadrati aggiungo poi sulla form un bottone specifico per creare un quadrato come name B crea Q come caption crea quadrato ci siamo vado poi nell'evento click di crea quadrato con un doppio click sul bottone stesso e con la stessa logica di crea rettangolo eccolo se il quadrato l'oggetto quadrato è diverso da nil significa che avevo già fatto click sul bottone e allora prima di creare una seconda volta il quadrato distruggo quello precedente quadrato.free e poi procedo alla creazione e con la stessa logica del costruttore dei T rettangoli controllo lo stato dell'oggetto quadrato e se l'oggetto è diverso da nil significa che avevo già creato in precedenza un quadrato e quindi lo distruggo e a questo punto creo il quadrato o il nuovo quadrato assegno la chiamata al costruttore T quadrati attenzione a quello che accade punto create e guardate cosa propone i quadrati l'abbiamo visto prima non posseggono il loro costruttore allora quando scrivo create il costruttore viene cercato nella classe genitrice dei quadrati cioè nei rettangoli e lì viene trovato in effetti un costruttore create e quindi viene usato quello il costruttore dei T rettangoli pretende questi parametri la base e l'altezza xy e la forma su cui disegnare il rettangolo bene noi proporremo naturalmente come base e altezza lo stesso valore che per noi rappresenta il lato decidiamo che il lato verrà inserito qua nella prima casellina quella che per i rettangoli era considerata solo la base a questo punto è comodo andare a fare un copia e incolla della chiamata del costruttore per i rettangoli per avere già pronti i parametri andiamo qui incolliamo quindi se il lato è quello contenuto nella base dovrò fornire per due volte lo stesso valore xy e il resto lo teniamo così com'è nel frattempo anche corretto un piccolo errore qui dove mancava una parentesi e ora anche per il quadrato richiamo un metodo che non esiste direttamente nella classe dei quadrati il disegno quello che succede come per il costruttore è che questo viene dapprima cercato nei metodi della classe t quadrati non trovandolo si risale la gerarchia e si va a cercare il metodo disegna nei rettangoli dove viene trovato e quello viene utilizzato salvo il progetto con ctrl s anzi la unit con ctrl s e provo a mandare in esecuzione il programma perfetto proviamo a creare il quadrato eccolo riassumendo un quadrato pur non contenendo nulla perché lo vedete qui lo stato interno è vuoto l'elenco dei metodi è vuoto sa però crearsi richiamando il costruttore della classe madre di rettangoli sa disegnarsi e non l'ho fatto ma l'avrei potuto sa come calcolare la sua area e il suo perimetro tutto in riferimento a ciò che trova nella classe dei t rettangoli ma proviamo a specializzare un pochino e a migliorare almeno le prestazioni in alcune sezioni della classe dei quadrati intanto ci sembra una scocciatura a dover creare un quadrato indicando per due volte la misura del lato la casella di testo base e ancora la casella di testo base torno allora nella unit dei quadrati e ridefinisco il costruttore constructor create prevedo allora di passare la misura del lato la chiamo che lato di tipo integer e poi ancora che x e che y che metto qua in quanto sono essi stessi degli integer e il dove che è la form su cui deve essere tracciato il quadrato torniamo quindi nella unit prova rettangoli e modifichiamo la chiamata del costruttore ora che i quadrati sono stati dotati del loro costruttore possiamo utilizzare un parametro in meno non due volte e base punto text ma una volta sola il lato che verrà poi duplicato e copiato e memorizzato nella variabile base e nella variabile altezza e gli altri che rimangono invariati la form su cui disegnare è sempre la stessa mi sta venendo un sospetto si nei quadrati ho dimenticato anche di indicare nelle uses la classe che contiene la definizione delle tform virgola forms completiamo la classe dei quadrati scrivendo il corpo del costruttore nella parte implementation vedete ho ripreso l'intestazione ho aggiunto davanti al punto create il nome della classe begin end ora possiamo procedere in due modi uno che non sfrutta al meglio l'ereditarietà e l'altro che ovviamente lo fa incominciamo col metodo peggiore il metodo peggiore in modo pedisseco ripropone la stessa sequenza di istruzioni che già abbiamo esaminato per il costruttore dei rettangoli quindi il parametro che lato viene memorizzato prima nella base e poi anche nell'altezza x e y vengono valorizzati con i rispettivi parametri che x e che y e la variabile dove con il parametro disegna su attenzione che ho cambiato il nome del parametro perché era stato scelto come nome dove che poteva confondersi con il nome della variabile dello stato interno quindi sia qui nell'interface che qui nell'implementation ho cambiato il nome del parametro che è diventato disegna su e in dove memorizzo quindi disegna su tento ora di far funzionare il programma ma un errore anzi un divieto ne impedirà la compilazione undeclare identifier base altezza eccetera in pratica ci è stato negato l'accesso diretto tramite il loro nome ad alcune variabili dello stato interno ma è proprio quello che avremmo dovuto aspettarci infatti se andiamo a controllare nella classe dei t rettangoli base altezza x e dy e dove sono variabili private quindi nessuno al di fuori dei metodi della classe può accedervi direttamente il meccanismo della protezione di una classe sta funzionando perfettamente una soluzione di ripiego potrebbe essere questa cambiare lo status delle variabili dello stato interno da private a protected in questo modo oltre ovviamente ai metodi della classe stessa anche e solo i metodi delle classi derivati da t rettangoli potranno accedere direttamente a queste variabili anche se in alcuni casi questa soluzione potrebbe anche essere quella adeguata certamente abbiamo diminuito il grado di protezione della classe dei rettangoli ed inoltre stona questa che di fatto è una ripetizione quasi identica delle istruzioni che troviamo anche nel costruttore dei rettangoli vedete sono praticamente identiche di fatto non stiamo utilizzando al 100% le potenzialità della ereditarietà vi ricordo che una classe figlia ha la possibilità di richiamare un metodo della classe madre perché allora non far sì che il costruttore dei quadrati invochi chiami il costruttore dei rettangoli per fargli svolgere i compiti di cui ha bisogno visto che sono praticamente gli stessi e anche se i compiti del costruttore della classe madre fossero solo una parte di quelli che servono comunque potremmo prima richiamare quelli e poi completare vediamo allora come richiamare dal costruttore dei quadrati quello dei rettangoli non è possibile scrivere semplicemente create e poi parametri perché il compilatore non saprebbe quale create chiamare farebbe già confusione con il create dei quadrati stessi pensando ad una chiamata ricorsiva ad esempio ma se la gerarchia delle classi prevedesse oltre a quadrati rettangoli anche un'altra classe che sarebbe la nonna dei quadrati i poligoni e poi le figure avremmo un'ambiguità che non consentirebbe di scegliere tra i metodi create di questi livelli multipli di classi madri nonne antenate eccetera ecco allora che è necessario specificare in questo modo che ci interessa chiamare il costruttore ereditato in primis verrà cercato con un meccanismo che abbiamo già discusso nella classe madre immediatamente superiore a quella dei quadrati quindi nei rettangoli e così via il costruttore dei rettangoli prevede un parametro in più che è l'altezza ma noi sappiamo che è sufficiente indicare due volte il che lato e poi riproporre così come stanno gli altri parametri perché sono del tipo giusto e nella sequenza giusta esattamente come gli aspetta il costruttore dei rettangoli il fatto di non riscrivere le stesse istruzioni nel costruttore dei quadrati non solo evita una perda di tempo e una riduzione della dimensione totale del codice che verrà generato ma evita gli stessi problemi che abbiamo tanto sottolineato nella tecnica del copy-in-colla infatti se un domani venisse individuato un errore nel codice che assegna questi valori allo stato interno o che potrebbe poi anche fare altre cose dovremmo semplicemente andare in questa unica classe e modificare solo qui l'errore automaticamente tutte le classi figlie che utilizzano quel codice una volta ricompilato con un semplice clic e senza modifiche di codice il progetto si ritroverebbero a funzionare correttamente viceversa se avessi tante copie sparpagliate delle righe che vanno ad inizializzare lo stato interno a seconda delle classi figlie che di volta in volta ho derivato sarei costretto a cercare questo errore un po' dappertutto con il rischio grosso di dimenticare di togliere l'errore da una delle classi proviamo il programma creiamo un quadrato perfetto quindi gli stessi risultati di prima ma con una tecnica di programmazione nettamente superiore sono ritornato all'ambiente di sviluppo perché c'è ancora un'ultimissima questione da sistemare i più utenti tra voi avranno certamente badato che al momento lo status delle variabili dello stato interno dei rettangoli sono ancora protected quindi con un grado di protezione inferiore a quello di partenza ma che succede se si rimette a private lo stato interno dei rettangoli il quadrato funziona ancora proviamo ho rimesso private esecuzione crea quadrato funziona tutto cerchiamo di capire o meglio di convincerci del perché quando una variabile è private abbiamo detto viene evitato l'accesso diretto alla variabile cioè l'unico modo per modificare o anche solo leggere il contenuto di una di queste variabili è quello di passare attraverso un metodo pubblico della classe stessa quindi i quadrati vanno sì a modificare accedono alla variabile base altezza xy e dove ma non lo fanno direttamente vedete chiedono a un metodo della classe padrona proprietaria dello stato interno di fare questa modifica chiamano il costruttore della classe ereditata quindi un metodo della classe dei rettangoli questo metodo ovviamente ha diritto di modifica oltre che di semplice lettura delle variabili dello stato interno e lo può fare in modo diretto cioè indicando il nome stesso della variabile e poi comandare un assegnamento la regola quindi della protezione private è ampiamente rispettata ma allo stesso tempo in modo perfettamente controllato la classe figlia può in qualche modo influire sui valori dello stato interno della classe madre fino ad ora abbiamo sperimentato le possibilità offerte dall'incapsulamento cioè dal mettere insieme in uno stesso contenitore la classe variabili e comportamento i metodi le procedure e le funzioni costruttori compresi e abbiamo anche sperimentato l'ereditarietà che permette di programmare per differenze cioè di descrivere una nuova classe a partire da una già esistente aggiungendo quello che manca o modificando quello che deve essere adattato senza il copia e incolla del codice ma facendo riferimento direttamente alla classe genitrice notate che io avrei anche potuto sviluppare la classe dei quadrati senza aver bisogno di vedere il codice dei rettangoli che quindi potrebbe rimanere protetto per motivi di copyright l'unica cosa quantomeno è naturalmente avere la documentazione che mi spiega quali classi sono disponibili nei rettangoli e con quali caratteristiche quindi quali private quali protected ma di fatto poi posso anche sviluppare i quadrati senza vedere il resto della classe e questo aiuta sicuramente il programmatore a commercializzare il suo codice dando la possibilità all'acquirente di fare modifiche e di adattarlo alle sue esigenze e allo sviluppatore originale di proteggere i suoi diritti d'autore non è una cosa trascurabile quello che invece capita con la programmazione tradizionale è questo dopo aver acquistato ad esempio una libreria sviluppata da terzi nel caso avessimo bisogno di fare una modifica per adattare uno anche uno solo dei comandi di questa libreria alle nostre esigenze saremmo costretti a chiedere il codice sorgente allo sviluppatore ma questo equivale per lo sviluppatore a svelare i suoi segreti professionali e quindi o nega questa possibilità non ci vende il codice oppure lo vende a caro prezzo rimane da esaminare il terzo cardine della programmazione OOP il polimorfismo abbiamo già discusso della possibilità di programmare il codice per il calco del perimetro di un quadrato in modo più efficiente rispetto alla tecnica utilizzata per i rettangoli inizio con l'implementare il metodo perimetro per i rettangoli è un metodo pubblico è una function naturalmente che restituisce un integer lo copio per incollarlo qui nella parte implementation ti rettangoli punto perimetro è un metodo molto semplice si limita a restituire questo ovvio valore il perimetro è la somma della base più l'altezza moltiplicata per 2 mi sposto poi nella unit U prova rettangoli e lì dove comando la creazione di un rettangolo ma anche di un quadrato andrò a comandare anche il calcolo del perimetro dunque ecco qua dopo averlo disegnato aggiungiamo nel memo la stringa che contiene il risultato del calcolo del perimetro quindi prima il rettangolo dicevamo rettangolo punto perimetro e la stessa cosa nel quadrato dopo averlo disegnato facciamo aggiungere il suo perimetro non avendo non avendo dichiarato nella unit dei quadrati nella classe dei quadrati un metodo per il calco del perimetro il meccanismo mai lo conoscete discendendo il quadrato dal rettangolo il metodo perimetro verrà cercato nella classe immediatamente superiore nella classe madre qui effettivamente viene trovato ed essendo un metodo pubblico può essere utilizzato provo a mandare in esecuzione il programma provo ora a creare il rettangolo il suo perimetro è 60 la base più 40 100 per 2 200 il perimetro ed ecco qua il perimetro ora creo un quadrato il quadrato utilizzando la prima casellina come valore del lato dovrebbe dare come risultato 240 perfetto il quadrato è stato disegnato in sovrapposizione al rettangolo ma non è un grosso problema torno all'ambiente di sviluppo e ragionando sulla situazione dei quadrati decido siccome il tempo di esecuzione per il mio progetto è la cosa più importante di tutte che vale la pena di riscrivere il metodo di calcolo del perimetro per il quadrato sfruttando il fatto che moltiplicando il lato per 4 il tempo impiegato per il calcolo sarà inferiore a quello della somma tra base e altezza moltiplicata per 2 questo perché vi ricordo per moltiplicare per una potenza del 2 in questo caso 2 alla seconda 4 è sufficiente shiftare verso sinistra il valore che rappresenta il numero da moltiplicare quindi per moltiplicare per 4 il lato sarà sufficiente spostare due posizioni due bit verso sinistra la configurazione binaria che rappresenta il valore del lato nella classe figlia si riscrive semplicemente l'intestazione del metodo da ridefinire function perimetro integer andiamo a scrivere anche nella parte implementation quello che serve cioè il vero corpo del metodo perimetro i quadrati punto perimetro questo metodo è ancora più semplice di quello della classe genitrice e il perimetro è semplicemente e adesso attenzione all'inghippo base o altezza visto che in un quadrato avranno lo stesso valore per 4 ok tutto bene tutto male riuscite ad anticipare la risposta del compilatore pluf non so cosa sia base certo è ben nascosta private nella classe dei rettangoli solo un metodo dei rettangoli può utilizzarla come uscire da questo impasse se quello che per noi conta di più è la velocità di accesso alla variabile base è meglio allora cambiare lo status solo di questa variabile da private a protected in questo modo aggiungiamo una sezione protected e spostiamo la base in questa zona qui dobbiamo cancellare la virgola e qua dobbiamo invece aggiungere il tipo della base che è un integer la variabile risulta ancora abbastanza protetta ma in più la classe figlia potrà utilizzarla quindi base è accessibile anche alla classe dei quadrati e quindi ha un suo metodo vediamo se è vero provo a compilare questa volta il compilatore non fa una grinza creo il quadrato 240 perfetto torno all'ambiente di sviluppo se invece la velocità quantomeno quella piccola differenza che ora sto per introdurre non è un problema ma lo è invece la sicurezza allora possiamo lasciare private la variabile base e dar la possibilità dall'esterno ma in modo controllato passando sotto il controllo della classe dei rettangoli la possibilità dicevo di accedere in qualche modo alla variabile base dovreste anche già sapere come l'avevamo anche già scritta la base è una funzione che è in grado di estrarre dal corpo delle variabili private il valore della variabile che abbiamo indicato ovviamente la base quindi il metodo perimetro dei quadrati è vero che essendo ritornata private la variabile base non la può più usare direttamente ma può chiedere il valore della base invocando questa che non fatevi ingannare è una funzione è un metodo pubblico dei rettangoli che restituisce proprio il valore desiderato certo il prezzo che si paga è un piccolo ritardo perché per far funzionare per chiamare una funzione dobbiamo lavorare sullo stack eccetera eccetera quindi un piccolo ritardo di fatto c'è proviamo a compilare creiamo un quadrato perfetto la scelta è tutta vostra volete velocità o volete sicurezza il massimo delle due cose insieme non è mai possibile non è mai